Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi O meglio, simile a quello di ieri Ma da fare da soli ragazzi Per fare questo glitch dovete avere gli stessi requisiti di ieri Che vi elencherò più avanti E dovete chiamare un taxi Perché andrete a farlo da soli Quindi andiamo a chiamare un taxi E aspettiamo che arrivi Il taxi chiamatelo più volte Insomma in maniera tale che vi dia la conferma Che arrivi questo taxi E ora passerò ai requisiti ragazzi I requisiti come ho già detto sono gli stessi di ieri Un posto libero dovunque Può essere il centro operativo Può essere un garage Può essere una clubhouse Basta che avete un posto libero Gli esatti soldi per comprare il veicolo Cioè se dovete spendere 2 milioni e 7 Per comprare un X80 Proto Dovete avere 2 milioni e 7 per l'X80 Proto Più non so 50-60 dollari per taxi Pure 100 dollari Non fa nulla L'importante è che avete qualcosa per il taxi In banca ragazzi anche se non avete niente Non è importante Quindi passiamo al glitch Saliamo sul taxi quando arriva Impostiamo una meta Ovviamente non impostiamo una meta lunghissima Io qui l'avevo impostata in culo al mondo L'ho impostata da Da Bennis però Me ci ha messo tipo una vita e mezza Perché tutti i semafori Se le fatti lui Voi sollecitate il taxista Così in maniera tale che Andrà un pochino più veloce Insomma poi dipende sempre dove impostate la meta Cioè se state a fare glitch in centro Non è che impostate la meta A Sandy Shore insomma Quando siete sul taxi ragazzi Che cosa dovete fare? Andate a scegliere l'auto che volete comprare Allora io qui ragazzi Ho 1.535.000 E 63 dollari Quindi vado a comprare la Wagner che mi costa 1.535.000 Pinti pinti ragazzi Però non l'acquisto Quindi mi vado a posizionare Sul centro operativo Perché io l'unico posto che ho libero L'ho il centro operativo Però voi potete anche Usare un garage Va bene Per chi non ha soldi Va benissimo Anche un garage L'importante è che ci sia Un posto vuoto ragazzi Mi raccomando Un posto vuoto Quando siete quasi giunti A destinazione Io sono quasi giunto A destinazione ragazzi Che cosa dovete fare? Vi dovete tenere pronti Perché dovrete schiacciare X Allora non appena Vi sbatterà fuori Vedete che Vi compariranno i soldi In rosso Dovete schiacciare X Immediatamente Come vedete Vi comparirà L'acquisto La notifica Dell'acquisto E in più In alto Avrete i soldi Che avevate Più o meno I soldi che avevate Tranne qualche spesuccia Per taxi Insomma A questo punto Ragazzi Io richiamo Il mio centro operativo mobile Per farvi vedere Che il veicolo Sta dentro Il centro operativo mobile Avremo un breve tempo Di attesa Perché giustamente Avremo un breve tempo Di attesa Ovvio Non è che ci portano Così la macchina Quindi Aspettiamo Che arrivi Quest'auto E vediamo Com'è Com'è Quest'auto Insomma Penso che tutti sappiamo Com'è sta cazzo De Wagner È un cesso De macchina Detto tra me E voi Quindi Ragazzi Allora Alcuni mi hanno Domandato Come facevano A togliere i soldi I soldi in eccesso E cazzi e mazzi Insomma Ragazzi Se avete un secondo personaggio E dovete fare un acquisto Di 2 milioni e 7 Voi vi lasciate 2 milioni Settecentomila E cento dollari E il resto Lo mettete in tasca Al secondo personaggio Ecco la Wagner Ragazzi Adesso la vado a vendere Perché Cioè A parte che Con questo profilo Mi servono sordi Mi servono proprio Però comunque La vado a vendere Pure per liberare un posto E come dicevo Ragazzi Tornando al discorso Li mettete lì I soldi E poi Quando avete finito Tutto quanto il glitch Ve le riprendete Approfittate di questo glitch Perché anche questo Penso che venga bacciato in fretta Spolliciate sul video Condividetelo Supportatemi Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti I'm bringing gravity back Adopted by the major I want my family back People work hard Just to get all their salary tax Look I'm just a writer From the get all I'm Mallory Black Man Where the hell's all the sanity at? Damn I used to be the kid That no one cared about That's why you have to keep screaming I love you